no diario di bordo signore e signori abbiamo fatto sette giri abbiamo preso 7 dure 7 cammelli il giro delle sette chiese ambulanze ambulanze di ambulanti e stiamo ancora qui semplicemente perchè perchè la destra e la sinistra sono due concetti universalmente noti ok ma non abbiate paura signori questo solo famo ok famo il cid lo compilamo panico panico oh mio dio moriremo tutti siamo esattamente più lontani da quando eravamo vicini sulle strade da california prego soltanto notare che siamo arrivati abbiamo cambiato tre destinazioni allora adesso vai dritta voi ragazzi siete lì ma noi vi siamo per bene apprendere senti dritto dove sta l'auto dritto è dritto dritto non ha interpretazioni guarda dritto no ma a sinistra tu continuati dritto ok incredibili signori superiamo a destra questo con c'è che sta facendo l'inversione di marco alla schumacher non te temo anche perchè stavo surbagnato ah ho capito buonasera amici di calcio qua la segui dito qua lì non c'è bisogno potete pure passare un po' prima io stavo andando attenta il pedone posso adesso l'acqua attenta il sub hai deciso di far scaricare il telefono non mi frega niente questo lo documenterò su youtube si ma tu è il camera prof io ti vedo che ci avrei un bello un bello grande 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 questo vedremo che fai eh dove sta? destra qua qua fuori una fuori si lanciate ania quanto ci abbiamo messo un quarto d'ora? ahaha alla corte ho cercato di documentare per pensare l'azienda sono due volte si ha sbagliato a destra e a sinistra no a lavato semane alla vala sotto commentando perchè non ci vedono le persone con le successe che stavate ritorno era detto amare la città è stato passato al porto e ora dove sono venuti lei da cui ha fatto il giro contro ha preso io l'ho fatto con il fatto a sinistra bella a destra a fare qui a semano girare no no ha detto gira a destra no tu non sei non hai fatto gira a sinistra io ne ho gira a sinistra e lei ha fatto